Ancora una strage di pecore ad opera di cani randaggi. A farne le spese il gregge dell'azienda Cardi che si trova presso il baglio Bissona. Molte erano anche gravide. Un vero e proprio starminio che si va a sommare gli attacchi subiti alle aziende Lombardo e Centonce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani. Si tratta di un problema che sta mettendo in ginocchio l'economia di queste aziende, nella fattispecie l'azienda Cardi. Grazie.